E le imprese devono assumersi le proprie responsabilità, perché noi siamo persone in carne e ossa, che partiamo di casa la mattina, abbiamo le nostre vite fuori dal posto di lavoro e abbiamo il sacrosanto diritto di poter arrivare sul posto di lavoro e lavorare pensando che è tutto a posto, che è il datore di lavoro provveduto, che è tutto ben organizzato. E invece dobbiamo stare attenti, dobbiamo camminare sapendo che ogni angolo potremmo perdere la vita, e allora la distrazione è l'evento fatale. Guardate, la cosa che fa più male è sentire e dire queste cose addirittura dagli istituti e dagli enti, che dovrebbero essere i primi in prima fila, per i compiti che hanno, a pretendere dalle istituzioni, a pretendere dalla politica, che venga data l'adeguata priorità, che vengano spese le risorse che peraltro sono anche già stanziate. Allora il punto è che spetta a noi, noi, CGL e Cisle Will, in questi mesi, negli ultimi mesi, siamo stati quelli che hanno fatto i protocolli per la sicurezza Covid, siamo stati quelli che hanno fatto il protocollo per la vaccinazione nei posti di lavoro. Noi abbiamo un'idea chiara di come si può andare a lavorare senza rischiare la pelle.